Buono come il pane, un pezzo di pane, pane al pane e vino al vino. Quante espressioni ci sono nella lingua italiana legate al pane? Ed è normale, per quasi tutte le comunità del mondo, il pane è la base dell'alimentazione. Un prodotto semplice che esiste da millenni e che nel tempo non è cambiato molto. Ogni cultura lo fa a modo suo, chi usa solo un tipo di farina, chi invece mischia le farine di vari cereali, chi usa il lievito naturale, chi il lievito di birra o chi non usa proprio nessun tipo di lievito, chi aggiunge il sale e chi no, chi lo ama chiaro, fatto di farina bianca e chi invece preferisce farine integrali e profumate. Chi lo cuoce in forme lunghe e basse, chi lo fa invece in forme alte e tondeggianti, chi lo fa nel forno a legna, chi nel forno a gas e chi addirittura in padella. E il pane italiano come si fa? Beh, dovreste sapere ormai che quando parliamo di cucina e di tradizioni non esiste una cosa italiana che valga per tutti. Ogni regione, praticamente ogni città, ha il suo pane, legato ai prodotti disponibili sul territorio, ai contatti con altri popoli e culture, a tradizioni antiche o moderne. Questo è Salvatore Racconta, un podcast che ogni settimana ti presenta una storia italiana con una lingua semplice, chiara e pulita. Scritto e prodotto da me, un insegnante di italiano per stranieri, e quindi con un'attenzione particolare a chi studia o parla italiano come seconda lingua e vuole imparare parole e storie nuove sull'Italia. Di ogni episodio ti metto a disposizione anche la trascrizione del testo in pdf con un glossario delle parole più difficili. La puoi ricevere via mail se ti iscrivi alla newsletter gratuita. Trovi un link in descrizione. Nell'episodio di oggi ti porto a fare un viaggio in Italia sulla strada del pane. Cinque luoghi per cinque tipi di pane molto peculiari, apprezzati e pieni di storie da raccontare. Ciao, stai ascoltando Salvatore Racconta, un podcast in italiano semplice, ma non banale. Se studi italiano e ne hai abbastanza di sentire parlare sempre di pizza, caffè e di quanto sia bella Venezia, questo è il podcast che fa per te. Ogni sabato qui troverai contenuti originali sull'Italia per potenziare il tuo italiano e conoscere meglio il paese che ami. Se un episodio a settimana non è abbastanza per te, puoi accedere alla serie del mercoledì riservata agli abbonati e dedicata a temi di attualità. La trovi all'indirizzo www.patreon.com slash Salvatore Racconta. Ma per il momento, buon ascolto! Iniziamo dal nord e in particolare da Milano. Di per sé è già una cosa abbastanza curiosa. Infatti, normalmente, le tradizioni culinarie partono dalla campagna e dai piccoli paesi, non dalle grandi città. Soprattutto da una città come Milano, modernissima e tecnologica. È difficile immaginare che uno dei suoi simboli possa essere il pane. E invece sì, un tipo di pane molto particolare che si chiama michetta. Com'è fatta la michetta? È un panino di forma più o meno rotonda con dei disegni sopra che la fanno sembrare una tartaruga o un fiore. Infatti, in alcuni posti la chiamano anche rosetta. Ha una particolarità molto peculiare. La sua crosta, cioè la parte esterna, è croccante. La mollica, cioè la parte interna, praticamente non c'è. Insomma, la michetta è un pane vuoto dentro. Per questo è molto leggero e pratico quando vogliamo fare dei panini imbottiti perché c'è tanto spazio per i salumi, il formaggio o le verdure. L'amichetta è arrivata a Milano più o meno nel XVIII secolo quando la città faceva parte dell'impero d'Austria e gli austriaci non amavano molto il pane italiano che si poteva mangiare in città, un po' asciutto e con una mollica che faceva tante briciole. Loro amavano il loro pane morbido e compatto, un panino chiamato Kaiser Semmel e che oggi esiste in alcune varianti in tutta l'Europa centrale. C'era solo un problema. Con l'umidità di Milano i panini tipo Kaiser Semmel diventavano presto gommosi e immangiabili. Così i panettieri hanno modificato un po' la ricetta, hanno mantenuto la forma originale ma hanno fatto un panino vuoto dentro, più leggero e più resistente all'umidità. Così è nata l'amichetta. Ancora oggi il pane milanese per eccellenza. Per i lavoratori milanesi in passato l'amichetta ripiena di salame e formaggio era il tipico pranzo da consumare nella pausa. Oggi Milano è cambiata è molto più facile passare la pausa pranzo al ristorante ed è più difficile incontrare impiegati o operai che mangiano la loro amichetta imbottita su una panchina. Nonostante ciò questo panino vuoto e croccante resta un simbolo di milanesità. Da Milano scendiamo fino alla Toscana. Innanzitutto bisogna dire una cosa importante. In Toscana come anche in Umbria e nella parte alta del Lazio il pane si prepara senza aggiungere sale all'impasto. Si definisce pane sciocco o sciapo che significa appunto senza sale. Questa cosa differenzia il pane dell'Italia centrale da quello di tutto il resto della penisola e divide molto i gusti alimentari delle persone. C'è chi lo ama e chi lo detesta. Io vi dico la verità faccio parte della seconda categoria. Il motivo per cui in questa zona si prepara il pane senza sale non è del tutto chiaro. Secondo una spiegazione storica questa scelta è legata al fatto che alla fine del Medioevo era necessario comprare il sale dallo stato della chiesa e quindi di fatto bisognava pagare una tassa al Papa. Gli abitanti dell'Umbria e della Toscana grandi rivali politici della chiesa preferivano mangiare senza sale piuttosto che arricchire il nemico. La seconda spiegazione è di carattere gastronomico. Secondo questa teoria il pane senza sale ha un gusto abbastanza neutro per accompagnare i salumi e i formaggi locali particolarmente saporiti. Devo dire che la prima spiegazione mi piace di più è divertente ma forse la seconda è più realistica. A ogni modo ad Alto Pascio in provincia di Lucca fanno un pane molto famoso e molto antico che si chiama proprio pane di Alto Pascio e che ha una particolarità si produce senza lievito. Questo non significa che non sia lievitato ma i panettieri locali usano per la lievitazione un prodotto che si chiama sconcia e che ha una ricetta un po' segreta. Per fare il pane di Alto Pascio si mischiano farina di grano tenero acqua e ovviamente la famosa sconcia. Ah dimenticavo senza sale mi raccomando i produttori locali raccontano che il pane di Alto Pascio ha una storia antichissima. Si faceva così già nel Medioevo quando i pellegrini in arrivo dal nord passavano da qui per arrivare a Roma lungo la famosa via Francigena. Trovare una conferma a questa storia non è facile ma è bello immaginarlo mentre si mangia un po' di prosciutto e formaggio o una zuppa calda di legumi in una trattoria toscana da accompagnare naturalmente con due belle fette di pane di Alto Pascio. Dalla Toscana prendiamo una nave e andiamo in Sardegna. Questa regione ha tradizioni antiche ed estremamente peculiari che la distinguono in modo forte dal resto d'Italia e il pane non fa eccezione. Il pane tipico sardo infatti ha un aspetto completamente diverso rispetto al pane del resto d'Italia. Non ha la forma di una pagnotta di un filone o di un panino ma è fatto di dischi larghi sottili e molto croccanti. Si chiama Carasau e sembra che il nome derivi dalla parola sarda Carasare che significa tostare. Infatti il pane Carasau è così sottile e croccante perché viene cotto due volte. Ma da dove viene questa particolarità? Non è un capriccio ma una necessità concreta. I pastori sardi che portavano al pascolo le pecore e le capre per lunghi viaggi avevano bisogno di scorte di cibo da conservare per tanti giorni e forse anche per settimane. Un pane diciamo normale dopo pochi giorni diventa duro e immangiabile. Un pane tostato e croccante resiste molto più a lungo ed ecco come nasce il Carasau che resiste ancora oggi in un mondo moderno dove non ci sono più così tanti pastori. Si può mangiare al naturale così com'è asciutto e croccante oppure si può bagnare per qualche secondo sotto l'acqua per farlo diventare più morbido. Una volta a casa di amici sardi ho mangiato delle lasagne vegetali fatte di pane Carasau inzuppato con il sugo di verdure forse non molto tradizionali ma davvero davvero buone. Dalla Sardegna torniamo sul continente e andiamo verso sud per l'esattezza in Puglia dove si produce il famosissimo pane di Altamura che cos'ha di particolare? Intanto come succede spesso al sud si fa con la semola di grano duro e non con la farina di grano tenero questo gli dà un caratteristico colore giallino anziché bianco e poi è un pane particolarmente alto e soffice con molta mollica al suo interno insomma praticamente l'opposto dell'amichetta milanese e anche del Carasau in passato le donne di Altamura preparavano il pane in casa o meglio preparavano l'impasto in casa e poi andavano a cuocerlo in dei forni pubblici fatti apposta sinceramente non so perché se per motivi fiscali o di sicurezza fatto sta che andava così il pane di Altamura comunque è diventato particolarmente popolare in tutta Italia grazie all'emigrazione interna per tantissimo tempo in passato ma in effetti ancora oggi molte persone e famiglie del sud sono emigrate al centro nord in cerca di lavoro e stabilità economica tra loro anche molti pugliesi e spesso poi hanno aperto negozi di alimentari e panetterie per avere anche lontano da casa i sapori della propria tradizione e per una persona che ha nostalgia di casa non c'è niente di più identitario del pane così tutti i pugliesi arrivati a Milano a Torino a Bergamo andavano nelle panetterie dei propri corregionali per trovare un po' di conforto alimentare in quel posto così estraneo ben presto non solo i pugliesi ma tutte le altre persone originarie del sud che vivevano al nord hanno iniziato a mangiare il pane di Altamura perché era quello più vicino ai loro gusti è facile da trovare anche nelle panetterie del nord proprio grazie ai pugliesi che avevano aperto la strada e introdotto il loro pane lo so bene perché conosco da vicino una famiglia del sud non pugliese che ha vissuto al nord per un po' e che ha trovato nel pane di Altamura un buon compromesso con i propri gusti quella famiglia erano i miei genitori e quando i miei genitori sono finalmente tornati in Sicilia hanno potuto ricominciare a mangiare il loro pane che poi è anche il mio qual è la particolarità del pane siciliano come quello pugliese si fa soprattutto con la semola di grano duro anche se spesso è più basso più croccante e con meno mollica ma soprattutto il pane siciliano ha un ingrediente in più e cioè i semi di sesamo il sesamo è una pianta tipicamente medio orientale e infatti in Sicilia è arrivata nel medioevo grazie agli arabi questi semini aggiungono al pane un profumo molto intenso è un sapore particolare e subito riconoscibile il tipo di pane più tipico con il sesamo è un panino chiamato Mafalda è un panino fatto a forma di sinusoide con una striscia finale al centro e che poi viene cosparso con i semi di sesamo prima di essere infornato come dicevamo all'inizio il pane è una cosa molto identitaria si lega ai nostri ricordi più intimi in modo quasi primitivo i milanesi forse si emozionano pensando all'amichetta e i toscani amano il loro pane senza sale io quando sento il profumo di semi di sesamo ho solo una parola in mente casa hai ascoltato Salvatore Racconta un podcast in italiano semplice ma non banale se l'episodio ti è piaciuto e ci sono parole ed espressioni nuove che vuoi approfondire puoi ricevere gratuitamente la trascrizione dell'episodio con un glossario delle parole più difficili iscrivendoti alla newsletter del podcast per altri materiali di lessico e grammatica seguimi su instagram e visita il sito salvatore racconta punto com trovi tutte le informazioni necessarie nella descrizione di questo episodio alla prossima